Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive. Oggi parliamo di un argomento che tante volte ci viene richiesto che riguarda il FAP e tutte le problematiche collegate appunto con questo sistema. Il FAP come sapete è un sistema che è stato introdotto sulle macchine diesel. I primi FAP sono più o meno del 2008-2007, proprio i primissimi 2008, hanno avuto e servono appunto per lo scopo era quello di trattenere il particolato per poi con le rigenerazioni essere bruciato, essere ridotto a delle particelle molto più piccole e poi finire in atmosfera. Non entro nel merito, secondo me c'è qualche cosa che può essere ancora nettamente migliorato perché comunque se tu fai un sistema e comunque butti quello che è residuo in atmosfera uno mi deve spiegare che tipo di vantaggio ha. Anzi, andando a analizzare bene il problema, soprattutto anche su esperti del settore hanno commentato una cosa di questo genere, si va addirittura a peggiorare per la salute dell'essere umano, nel senso che il particolato, se viene espulso in maniera normale, ha delle particelle di X micron. Adesso chiaramente non so esattamente la dimensione, comunque X micron. Con il trattamento del FAP questi micron si riducono moltissimo e quindi mentre le particelle che prima potevano non essere respirate rimanevano a livello diciamo dell'esofago, chiamiamolo così, queste particelle ancora più piccole finiscono direttamente nei polmoni. Traetene voi le conclusioni, io vi riporto quello che ho capito sentendo alcuni esperti e diciamo che c'è da preoccuparsi. Comunque chiusa questa parentesi. Il discorso del FAP, come dicevo, ha subito un'evoluzione per cui ci sono i FAP di prima generazione che vanno dal 2007-2008 fino al 2011-2012. Poi c'è stata tutta la parte dei FAP di seconda generazione dove venivano additivati con questo additivo che si chiama cerina e i FAP di terza generazione che sono appunto gli adi blu dove viene iniettato questo additivo per abbattere ulteriormente quelle che sono le sostanze nocive che comunque finiscono sempre in atmosfera in ogni caso. Diciamo che soprattutto nei FAP di prima generazione il sistema ha creato e crea ancora oggi tantissimi problemi, nel senso che la maggior parte delle macchine non ha la spia di avvenuta rigenerazione o dove avverte che la macchina sta per fare la rigenerazione. Nel momento in cui uno, in maniera del tutto inconscia, spegne la macchina, interrompe il sistema di rigenerazione, il gasolio che poi appunto è quello che viene iniettato con un quinto iniettore, nel momento in cui la macchina è 4 cilindri viene iniettato col quinto iniettore all'interno del FAP e serve per bruciare questa parte di particolato al posto che finire, a macchina spenta, al posto che finire nel FAP e finisce nella coppa dell'olio. Quindi questo cosa succede? Che soprattutto se uno usa la macchina molto in città, saltando tante rigenerazioni si va a aumentare in maniera esponenziale quello che è il fluido che c'è all'interno della coppa dell'olio diluendolo in maniera sempre più massiccia, perché se io butto dentro del gasolio non ha certo le stesse proprietà di un olio sintetico che deve garantire una lubrificazione perfetta e soprattutto si va a aumentare anche lì in maniera esponenziale quello che è la pressione interna del motore infatti tanti dicono ma caspita addirittura io mi trovo a volte guardando la stena dell'olio faccio il cambio dell'olio, l'olio è perfetto e dopo 10.000 chilometri mi trovo un quarto in più perché? Perché è tutto il gasolio che finisce lì dentro e questa è già la prima cosa per cui non è il primo nell'ultimo sono diciamo partiti un sacco di motori dovuti o a un discorso di pressione o un discorso di grippaggio dei componenti delle bronzine di banco, le bronzine di biella perché ovviamente l'olio motore non era più sufficientemente efficace ma questo è un problema l'altro problema è che quando il FAP arriva è come se fosse il sacchetto di un aspirapolvere quindi si riempie a comparti quando arriva praticamente all'ultimo comparto le due sonde che ci sono a monte e a valle che calcolano il differenziale di pressione continuano a questo punto non riescono più a la centina elettronica non riesce più a far fare rigenerazioni per pulire questo sacchetto dell'aspirapolvere quindi la macchina continua a fare rigenerazioni questo che cosa produce? Uno che la macchina ha sempre la ventola accesa calore nel vano motore che aumenta in maniera esponenziale, turbina che è a rischio perché la turbina ripetiamo è a monte del FAP e del catalizzatore in questo pezzo di tubo da un pipe che dir si voglia in quel caso se qua c'è un'ostruzione è evidente che in questo pezzo la temperatura sale in maniera esponenziale infatti ultimamente abbiamo già da diversi anni la maggior parte delle revisioni turbo sono causate dal FAP intasato se uno non va a risolvere il problema in tempo rapido la prima cosa che fa la turbina lo lascia per la strada quindi costo di revisione del turbo e poi si trova sempre a come risolvere il problema del FAP. Allora partendo dal concetto che togliere il FAP non è legale quindi questo lo diciamo ben chiaramente quindi se uno vuol fare questo lavoro a sua discrezione noi eseguiamo un lavoro ma diciamo ben chiaramente al cliente che il lavoro cioè che la macchina nel caso in cui dovessero fermarlo cosa peraltro remota è responsabilità sua. C'è da dire che nel momento in cui tocchiamo il FAP poi adesso darò le tre soluzioni che si possono... partiamo dal concetto che la macchina è arrivata al come come questa è arrivata al punto tale per cui il FAP ormai è arrivato al limite. Il cliente cosa che opzioni ha? Ha tre opzioni in sostanza o mette il FAP nuovo con costi veramente molto molto elevati perché un FAP nuovo uno deve comprare solitamente originale sono costi che vanno dai 1500 euro in su. Su macchine di un po' di anni fa tante volte il gioco non va alla candela e poi comunque si ritrova sì il FAP nuovo che dopo tot mila chilometri ritorna con le stesse problematiche abbiamo solo riportato indietro le lancette dell'orologio. La seconda ipotesi è quella di smontare questo FAP. Ci sono delle ditte apposta che collaborano appunto con le officine e preparatori dove il FAP viene messo in un forno e portato a temperature estremamente elevate per bruciare tutto quello che è la morchia, la combustione, tutto quello che sono i residui e diciamo portarlo di nuovo a un livello efficiente. Non sarà come il nuovo ma comunque lo porta già anche in questo caso si riporta indietro le lancette dell'orologio a un costo che non è di poco conto perché fare questo tipo di pulizia non è che costa come fare una rigenerazione forzata e anche in questo caso uno poi si trova il FAP più efficiente ma sempre con la spada di Damocle che ha un certo numero di chilometri il FAP ritorna a dare dei problemi. La terza ipotesi, sempre avvertendo bene il cliente di quello che uno sta facendo, è quella di eliminare il FAP. Eliminare il FAP significa che io devo smontare il FAP, lo tolgo proprio fisicamente lasciando il catalizzatore perché se io vado a togliere FAP e catalizzatore la macchina non passa più le revisioni, viceversa togliere solo il FAP le revisioni sono controllate dal catalizzatore. In questo caso andiamo a smontare il gruppo FAP catalizzatore, lo apriamo, viene tolta la parte fisica del FAP, viene proprio come dire levata, si lascia il catalizzatore perché è fondamentale per passare alle revisioni, si risalda, lo si monta e la macchina da un puntista meccanico non ha più il FAP, si lasciano le sonde in sede e fin lì siamo a posto. Poi bisogna completare il lavoro entrando in centralina elettronica e disattivando i cicli di pulizia, se no la macchina cosa succede? Il differenziale di pressione a questo punto è costante e le sonde mandano il segnale alla centralina che a questo punto continua a fare rigenerazione perché la centralina non è intelligente, segue solo quelli che sono gli input delle sonde. Quindi per poter togliere il FAP in maniera definitiva bisogna fare un lavoro meccanico ed un lavoro elettronico, solo così il FAP viene completamente eliminato, soprattutto su macchine molto vecchie, noi siamo contrari a fare questo genere di lavoro per tutta una serie di motivi, però onestamente su macchine vecchie piuttosto che buttare via la macchina o avere dei problemi meccanici con costi che poi via via diventano in maniera esponenziale sempre maggiori, a malincuore proponiamo questa soluzione e nel 99% dei casi i clienti approvano e ci fanno fare questo tipo di lavoro pur sapendo che nella remota ipotesi che vengano controllati è una decisione che hanno preso loro, non è che abbiamo imposto di fare questo. Noi facciamo, diamo una serie di ipotesi e starà poi al cliente scegliere quale soluzione è la più opportuna. Io direi che anche per questo discorso tecnico, questa informazione che si basa appunto sul FAP è tutto, se avete, magari mi sono dimenticato qualche cosa o avete da chiedermi delle informazioni ulteriori o commentate sul video o mi contattate, mi scrivete sulle mail o mi contattate telefonicamente in sede allo 0273 83 175, sono ben lieto di darvi delle informazioni anche spassionate, mi chiamano spessissimo clienti dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, io do loro delle informazioni ma è evidente che sono informazioni a fondo perduto, nel senso non è che vengono poi da me a fare il lavoro dalla Sicilia, però per prassi cerchiamo di essere onesti e di essere aperti con tutti i clienti, non abbiamo la finalità solamente economica, certo che il nostro lavoro è un lavoro commerciale quindi non siamo una onlus, però cerchiamo di stare molto dalla parte del cliente cercando di proporre le soluzioni più ottimali. Direi che per oggi è tutto, vi chiediamo di cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale che ci date aiuto per farlo crescere sempre di più, è uno degli aspetti sui quali stiamo lavorando molto e dobbiamo contare ovviamente anche sul vostro aiuto. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima!